Allora, eccoci. Iniziamo adesso il percorso verso l'ultimo argomento del corso. L'obiettivo ovviamente è quello di terminare tutto quanto serve, quindi tutti gli argomenti, rientro prima delle vacanze di Natale, in modo da poter dedicare le due settimane che rimangono in gennaio ancora di lezioni per fare unicamente temi di esame. Quindi l'obiettivo mio è sempre stato quello di completare il programma e poi poterci, diciamo così, dilettare a risolvere gli esercizi. Quindi in termini di macro argomenti abbiamo chiuso il quinto macro argomento, quindi modello concettuale, modello di processo, casi d'uso, narrative di casi d'uso, mock-up e l'ultimo argomento è quello che, diciamo così inizieremo martedì, ma richiede un attimo di premessa, è quello dei KPI, quindi come valutare in modo quantitativo e oggettivo il risultato di un processo supportato da un sistema informativo. In qualche modo cerchiamo di chiudere il cerchio, adesso siamo andati dall'alto verso il basso, dal concettuale verso l'operativo, a dire ok, un sistema informativo che abbia certi requisiti, come si può progettare, quali sono le sue viste principali. Adesso che l'abbiamo progettato ci chiediamo, ok, ma grazie a questo sistema informativo il processo aziendale che viene gestito, perché poi questo era l'obiettivo, l'abbiamo detto nella prima lezione, il sistema informativo da solo non serve a niente, serve per aiutarci a gestire dei processi, e sono i processi aziendali che ci interessano, non il sistema informativo, quello lo facciamo per divertimento, ma il vero successo del sistema informativo non è se è bello, veloce, eccetera, eccetera, ma è se aiuta le persone a lavorare meglio, se aiuta i processi, le aziende a funzionare meglio. Allora, dobbiamo darci dei metodi anche per misurare, uno, se il processo sta funzionando bene, non dico grazie al sistema informativo, ma insieme al sistema informativo, perché magari sta funzionando bene grazie a tanti altri motivi, non solo questo, e nel caso in cui non stia funzionando bene, dove poter andare a intervenire. Allora, per questo dobbiamo un attimo tornare al primo capitolo, queste sono le slide che avevamo iniziato la prima settimana, quindi le avete già, e chiederci questi sistemi informativi, dove vengono usati all'interno delle varie funzioni aziendali. Noi finora abbiamo praticamente sempre fatto esempi dei sistemi informativi a livello operativo, cioè sistemi informativi che gestissero le operazioni, le azioni, le singole transazioni, le singole produzioni, il singolo utente, la singola prenotazione, sistemi operativi che poi in realtà sono quelli, se vogliamo forse più complessi, perché devono poi seguire il processo effettivamente svolto dall'azienda nelle varie fasi, gestirne la logica, gestirne nelle anomalie, eccetera, eccetera. Quindi questi sono quelli più semplici e anche più frequenti da concepire sistemi informativi a livello operativo, a livello operativo dell'azienda, a livello in cui avviene la produzione, in cui c'è qualcuno che effettivamente trasforma valore, arriva l'ordine, viene elaborato e si produce il risultato, l'output che sia un bene, che sia un servizio o quello che è. Ma ovviamente questo non è l'unico livello aziendale. Voi insegnate a me che c'è tutta una serie di livelli aziendali superiori, tra virgolette, che qui abbiamo schematizzato, poi a seconda di modelli possono essere diversi, ma che viene schematizzato come livello della conoscenza, del management e livello strategico. Livello della conoscenza è un livello interpretativo sul livello operativo, cioè sul livello operativo si fanno cose, sul livello della conoscenza si sa cosa è stato fatto, si sa cosa deve essere fatto, quindi ci sono le informazioni, la conoscenza di a che cosa serve fare quell'operazione, che mette insieme il livello in cui vengono messi insieme i vari processi operativi. se io avvito un bullone di qua e un altro inserisci un interruttore di là, va bene, a livello operativo si fanno queste cose, ma a cosa servono queste cose? Perché messe insieme magari fanno, non so, una lampada. Allora questo, la conoscenza di qual è l'informazione a livello di prodotto e anche a livello di processo, che deve guidare le azioni a livello operativo è un livello diverso. Allora immaginiamocelo dal punto di vista del sistema informativo, da un lato è un sistema informativo che magari mi deve procurare i pezzi, interfacciarsi con il magazzino, contare le operazioni svolte, registrare i dati del controllo qualità sul pezzo appena prodotto, eccetera. Cioè mi segue nelle operazioni. Però a livello sopra avrò qualcuno che avrà disegnato le specifiche di quel pezzo, avrà fatto una bill of materials che dice quali e quanti pezzi di ciascun tipo servono per produrre ciascun codice prodotto, eccetera, eccetera. Queste informazioni, queste operazioni, che possiamo chiamare un pochino di progettazione tecnica, non sono a livello operativo, non vengono fatte ogni giorno 100 volte il giorno, ma vengono chiaramente progettate prima e quindi a questo livello ho la conoscenza del ruolo delle azioni svolte a livello operativo. Poi l'automazione cerca di mangiare sempre dal basso verso l'alto tutti questi livelli. Nel senso che già molti processi oggi con la dematerializzazione, digitalizzazione, chiamatela come volete, molti processi a livello operativo vengono svolti quasi interamente al sistema informativo stesso. Quindi il numero di azioni umane fatte a questo livello tende a diminuire e via via si sta salendo verso l'alto. Sopra il livello della conoscenza c'è il livello gestionale, in cui qualcuno deve gestire i progetti o i processi in modo che raggiungano gli obiettivi che si apre posti. Quindi va bene che tu hai progettato in modo perfetto l'oggetto che viene prodotto, hai definito i flussi di produzione e quindi a livello operativo viene prodotto bene. Ma poi alla fine ne stai producendo troppi o troppi pochi? Le stai vendendo al prezzo giusto o al prezzo sbagliato? Hai una catena di fornitore che è sufficientemente affidabile oppure no? E quindi se non è affidabile mi dà delle criticità nella produzione oppure no? Allora questo ovviamente non dipende né da chi fa le operazioni né da chi ha fatto la progettazione e quindi nella conoscenza del prodotto. Dipende da un livello superiore in cui riesco a vedere un intero processo come un unico blocco che ha certe caratteristiche di produttività, di rapidità, di tasso di errore. E' ciò che fa il project manager, controlla che le cose vadano secondo la scadenza giusta, secondo le quantità giuste e quindi a cascata controlla che ciò che succede sotto stia portando l'azienda verso gli obiettivi che ci sono dati. Obiettivi i quali sono di competenza del livello ancora superiore. Se oggi, fino a oggi abbiamo fatto automobili e da domani ci lanciamo nel mercato degli scooter, è una decisione strategica. Definiamo gli obiettivi del futuro sulla base di una serie di scelte che vengono fatte nel presente, magari analizzando ciò che è successo nel passato, ciò che fanno i competitor eccetera eccetera. Una volta che ho fatto le scelte strategiche queste diventano degli obiettivi che i vari project manager dovranno perseguire mettendo in campo della progettazione di prodotti o servizi che poi vengono eseguiti. Questa sulla teoria funziona sempre tutto bello, poi quando ci metti le persone dentro cominciano i casino. Però sono livelli diversi, ma qui fin qua non vi ho detto nulla di nuovo, anzi l'aveste detto voi probabilmente l'avreste raccontato meglio. La domanda che ci facciamo qui è, in tutto questo, cioè nell'esistenza di questi vari livelli in cui ci sono delle professionalità diverse, delle attività diverse, i sistemi informativi che fanno? I sistemi informativi saranno diversi, dovranno comportarsi in modo diverso, dovranno svolgere funzionalità diverse, senza dimenticare che però l'azienda è una e quindi i dati e le informazioni dovrebbero essere, dico una parola fortissima, condivise tra i vari livelli o perlomeno dovrebbero essere trasmesse da un livello all'altro e non essere totalmente dimenticate o segmentate, cosa che a volte succede. Vabbè, qui ci sono alcuni esempi di quello che abbiamo fatto, ma... Quindi, ragionando sul sistema informativo, lui svolgerà funzioni diverse, poi adesso entriamo un pochino più nel dettaglio, a seconda del livello in cui viene messo. Per cui a livello, finora, ragionando sul livello operativo, avevamo sistemi informativi che lavoravano molto sul prodotto, mentre invece salendo di livello cominciamo a ragionare anche sul processo, cioè non applicare un processo predefinito, ma pensare, ragionare sul processo, ridefinirlo, valutarlo, pensare dei nuovi. Quindi il sistema informativo, in qualche modo, ha queste due dimensioni di cui noi finora abbiamo, ma per semplicità di esempi essenzialmente, seguito solo una. La dimensione del prodotto, più il prodotto è complicato, è complesso, più ovviamente il sistema informativo sarà complesso, che non vuol dire difficile da usare, complesso in termini funzionali, e adesso più saliamo, abbiamo scoperto che c'è anche un asse di processo. Più saliamo nel conoscenza del processo, più aumenta un altro tipo di complessità. E ovviamente anche in funzione del settore industriale, questi due aspetti, quello di processo e quello di prodotto, possono emergere di più o di meno a seconda dei tipi di settore. Qui ci sono alcuni esempi in cui diciamo che le aziende manufatturierie tradizionali possono essere classificate come aziende che hanno un'intensità di processo relativamente bassa, processi standardizzati di produzione e un'intensità di prodotto anche relativamente semplice, nel senso che la complessità del prodotto, chi fa magari stampe o tornerie, è relativamente statica. Mentre invece ci postiamo su processi che coinvolgono maggiore conoscenza, il processo stesso diventa più complicato, dove stiamo dicendo non mi interessa, non mi basta più solo essere in grado di eseguire certi processi standardizzati che tutti usano, ma farli meglio, fare con più qualità eccetera eccetera. Ma mi interessa proprio studiare dei processi nuovi, pensate a quello che sta succedendo, qui ci sono gli esempi delle utility, col mercato dell'energia che ha cambiato e sta cambiando e sta continuando a cambiare le regole. Allora non puoi più lavorare come prima, devi inventarti processi nuovi, meccanismi nuovi di vendita, capire qual è il tuo prodotto, inventare prodotti nuovi che sono basati ad esempio sempre sul rivendere energia, ma poi adesso chi ti vende l'elettricità ti vende anche altre cose insieme perché altrimenti non si riesce a differenziare dagli altri, pur avendo comunque un prodotto che è sempre lo stesso, cioè ti porto sempre il filo del 220 a casa tua, ma non ti sto vendendo solamente kilowatt o più watt in realtà, ma ti sto in realtà vendendo un pacchetto di servizi integrato e quindi si è complessificata il processo per chi deve lavorare magari in quell'ambito, pur avendo un prodotto trovato molto semplice, sono sempre questi due fili che arrivano, poi tecnologicamente è complicatissimo ma il prodotto in sé diverso è invece dove ho anche dei prodotti che sono a loro volta complicati. Pensate alle decine di persone che si siedono al mattino all'interno della banca, di una sicurazione, di una compagnia telefonica e dicono adesso che clausole mi invento per fregare i clienti? Quanto riesco a creare un prodotto che sembri conveniente ma che poi in realtà abbia delle microtrappole sulle quali poi io mi faccio il guadagno? È brutto da dire ma c'è gente che fa questo lavoro, mi spiace per loro. E questo significa sì lavorare con intensità di processo elevata, devo inventare nuovi prodotti, ma questi prodotti a loro volta hanno una complessità. Cioè come faccio a sapere cosa succede se aumento di un centesimo al mese il costo dei messaggi? Ci perdo o ci guadagno? Ci perdo perché perdo clienti o perché useranno meno messaggi oppure ci guadagno perché comunque a parità di prodotto ho un ricavo maggiore. Per far questo ho bisogno di modelli anche complicati che siano modelli predittivi che mi dicano che cosa succede. Quindi quando il prodotto diventa più complicato è anche molto più complicato prevederlo. Se io nell'industria manufatturiere dico io ho l'arnese da taglio, anziché farlo affilare una volta alla settimana, lo faccio affilare una volta al mese, so quanto risparmio ma so anche, basta aprire il libro, quanto cara la mia qualità. Perché il processo è facilmente prevedibile, perché è semplice. Quando abbiamo dei processi più complicati anche la progettazione del nuovo processo, visto che il prodotto è così complicato diventa complesso in sé. E questa complessità intrinseca si ribalta ovviamente sul sistema informativo che deve seguire le varie persone che lavorano in azienda, le varie funzioni aziendali, deve supportare queste persone nello svolgere queste attività a questi lavori. Concentriamoci sul livello gestionale, che di questi livelli era il secondo dall'alto. A questo livello gestionale, perché poi è quello su cui ci focalizzeremo, dobbiamo gestire e valutare i processi che avvengono. ed eventualmente avere degli input, delle informazioni che permettono a livello strategico di ridefinirli questi processi. È bello da raccontare, però come fai a farlo in modo oggettivo e possibilmente facendoti aiutare il sistema informativo. E tu dovresti avere, per qualunque processo che la tua azienda stia svolgendo, innanzitutto degli obiettivi da raggiungere, che sono, se vogliamo, qua. La definizione dell'obiettivo. Poi devi avere il modo di osservare il processo, che sia automatizzato o no. Misurare il processo e vedere che risultati ti dà, non solo in termini di pezzi prodotti. Se il tuo obiettivo era quello di una certa redditività, vai a misurare la redditività. Se il tuo obiettivo era di una certa efficienza, vai a misurare l'efficienza. Se il tuo obiettivo era di un certo tasso di errore, vai a misurare il tasso di errore. Quindi devi essere in grado di andare ad osservare all'interno del processo quelli stessi qualità, quelli stessi indicatori che ti sei posto come obiettivo. Perché se io mi pongo come obiettivo quello di fare una festa in cui l'età media si è minore di 30 anni e all'entrata, anziché controllo l'età, controllo l'altezza delle persone che entrano. È solo questione di fortuna se alla fine l'obiettivo l'ho raggiunto o no. Perché io vado a misurare qualche cosa che non c'entra con l'obiettivo che voglio raggiungere. Quindi devo avere degli obiettivi che siano misurabili, in qualche modo, sul processo e devo essere in grado di analizzare questo pallino qua, confronto, un delta, incrociamo gli obiettivi che mi ero dato con le prestazioni attuali del processo. E capisco, analizzo le discrepanze. Avevo un obiettivo, il risultato misurato è diverso. Perché? Come faccio ad agire? Allora, su questo perché è dove il manager si dovrebbe guadagnare lo stipendio. Capire perché qualcosa non sta funzionando al meglio, magari ci sono i giorni in cui funziona meglio di quanto ti aspettassi, ma non capita mai. E quindi come agire? Questa fase di controllo in cui devo andare in qualche modo a intervenire per poter correggere una deviazione rispetto all'obiettivo. Agire, ad esempio, sul processo. Porre delle azioni correttive. Capire cos'è all'interno del processo che sta creando qualche intoppo e andare a cercare di rimuoverlo. Come? Non lo so. Aggiungendo risorse, se servono risorse. Migliorando alcune fasi, se serve migliorare alcune fasi. E qui bisogna poi andare a vedere. Per andare a vedere nel dettaglio, ovviamente, dovrò andare a prendere delle misure ulteriori, andare a danizzare più nel dettaglio queste cose. Oppure a volte, qui non c'è nel disegno, perché è sempre brutto da dire, non piace, ma a volte mi accorgo che erano gli obiettivi che erano completamente sballati. E quindi magari, reality check, andiamo un po' a porci degli obiettivi che siano effettivamente raggiungibili. È inutile porci un obiettivo che poi mi accorgo che, per quanto faccia lì sotto, non riuscirò mai a raggiungere. Tra avere gli obiettivi non chiari, non definiti, non misurabili, avere obiettivi che magari sono misurabili, ma sono irrealistici, non so cosa sia peggio. In entrambi i casi non possono essere strumenti di guida al manager. Quindi noi ci chiediamo, il sistema informativo, come può aiutarci a gestire un processo in questo modo? Questo è un meccanismo di gestione e controllo oggettivo. Qui non stiamo pensando al manager che fa la passeggiata nell'azienda, annusa l'aria e poi dice tu da domani vai là. Così, ha istinto, chiamiamolo così, istinto ce l'hanno i cani. Ma un meccanismo attraverso cui si sia in grado di prendere decisioni basate su dati oggettivi. Questo è il nostro obiettivo. Quindi mettere il processo che fa parte del livello della conoscenza e del livello operativo sotto controllo del suo stesso. Quindi avrò un sistema informativo il cui obiettivo non è quello di seguire la produzione, ma di metterci a livello superiore nel seguire come la produzione avviene, come il processo è stato svolto. E questo lo fai attraverso, diciamo qui stiamo cominciando a parlare, sistemi informativi a livello di management, sistemi informativi decisionali a volte li chiamiamo, MIS, Management Information System, che lavorano sulla base di indicatori. E non è facile, la parte critica è, ci sono due parti critiche, una più manageriale e l'altra più tecnica. La prima è capire quali sono gli indicatori che hanno un senso, che ti aiutano nel capire se il processo va avanti. Tu potresti farti dare alla fine di ogni giornata il dettaglio di tutte le operazioni fatte, tutti gli ordini ricevuti, tutte le materie rispedite, tutte le fatture in sospeso, eccetera, eccetera. E poi, cosa te ne fai di questa molle di dati? A livello operativo, il livello operativo è caratterizzato da molle di dati, perché ogni secondo c'è qualcosa da fare e questo qualcosa genera informazioni. Sui tanti processi che si dipanano a livello operativo. Per poterci capire qualcosa, per poter monitorare il processo, non posso annegare nel mare di piccole informazioni che costituiscono le singole azioni del livello operativo. Devo riassumere. Riassumere attraverso un insieme di indicatori limitati, in quantità, ma possibilmente rappresentativi. Rappresentativi di che cosa? Degli obiettivi, rappresentativi di una misura degli obiettivi che voglio raggiungere, che voglio misurare. Questa è la sfida, se vogliamo, organizzativa. Trovare un insieme di indicatori sintetici, una manciata di numeri che posso controllare ogni giorno, che posso controllare una volta alla settimana. E vedere il loro andamento, vedere se stanno nei range che mi aspettavo, vedere se ci sono delle variazioni, delle deviazioni. Il dato puntuale non serve. Sapere che oggi tra le due e le tre abbiamo prodotto il 10% in meno di ieri, che informazione mi dà? Nessuna. Magari c'era uno che aveva mal di pancia, o magari c'era il compleanno di un tizio, ci sono bevuti un bicchiere, ci hanno fatto 10 minuti di pausa in più, che devo ammazzarli. Il dato puntuale non può, non deve essere usato per prendere decisioni. È il dato aggregato che ti può guidare nel comprendere il processo e quindi nel prendere delle decisioni. E quindi la seconda metà del problema, dopo aver definito gli indicatori che abbiano senso, è come andare a misurarli questi indicatori. Non facciamo come quello che per aumentare l'efficienza a fine turno deve chiedere a tutti gli operai di compilare una distinta dettagliata di ciò che hanno fatto. Magari ci perdo più tempo a compilare distinta che non magari al tempo che guadagnano nella fase di produzione. Noi dobbiamo basarci su degli indicatori che siano oggettivi, che siano rappresentativi, ma che siano il più possibile automaticamente misurabili. in cui il sistema informativo possa venire a conoscenza di questi dati a costo zero o addirittura a costo negativo per il livello operativo, per chi lavora a livello operativo. Cioè non deve accorgersi di nulla, magari addirittura gli vengono semplificate alcune azioni perché il sistema informativo in più sta facendo del lavoro per loro. Allora ha senso mettere in piedi questo sistema di controllo, perché altrimenti se la misurazione qua sotto mi costa più del guadagno in efficienza, in qualità che posso avere, a livello strategicamente sto perdendo. Quindi ovviamente non è facile trovare il bilanciamento giusto, dobbiamo farci aiutare il sistema informativo. Allora il sistema informativo a livello operativo sa molte cose, sa tutto ciò che avviene. chi ha fatto cosa quando. Immaginate il sistema operativo a livello operativo, operational, con tutti i token che viaggiano per tutti i nostri processi. Ogni volta che il token si sposta, lascia cadere un dato, lascia cadere un'informazione. Pensate di poter raccogliere quelle informazioni lì. Sono tantissime. e poi riassumerle secondo gli indicatori che decidiamo noi, che abbiano un significato per noi. Allora, questo è il tipo di aiuto che ci può dare un sistema informativo a livello manageriale. analizzare delle grosse serie di dati elaborarle e presentarli in una forma adatta a alla comprensione del processo ed eventualmente b al miglioramento del processo stesso. A livello manageriale non mi interessa vedere il dettaglio del livello operativo. Mi interessa vedere dei dati aggregati. Questi dati aggregati me li faccio aggregare a un sistema informativo apposito che fa quello di mestiere. E quindi è un sistema informativo che è quasi il contrario di quello che avviene a livello operativo. A livello operativo mi serve il tempo reale. Adesso è arrivato un ordine e bisogna elaborarlo. Tante piccole transazioni. Tante piccole piccole tra virgolette operazioni ma nel senso puntuali, specifiche. A livello manageriale mi serve invece un dato a fine giornata, a fine settimana, a fine mese. Beh, dipende ovviamente dal dato. Da che cosa sto misurando. Ovviamente deve essere un dato che viene catturato, analizzato con una periodicità compatibile con la periodicità del processo sottostante. O quasi, se andate a vedere l'andamento di quasi ogni cosa ha un andamento variabile ma periodico. Con una certa periodicità. Allora, se tu vai a vedere perché il lunedì ci sono meno persone che visualizzano, che ne so, mi vengono in mente le statistiche del video che metto su YouTube, quindi le lezioni, no? È chiaro che il martedì pomeriggio ci sono più visualizzazioni. Perché c'è la lezione qualcuno non è venuto a lezione ma sa che il mercoledì c'è il laboratorio e allora si guarda la lezione. Punto. Però il fatto che il mercoledì ci sia più gente che guarda il video che non il mercoledì, penso, non è che perdo le ore a guardare questi dati, che può avere una sua spiegazione. Mi dice qualcosa? No, è un, diciamo così, una conseguenza di come è fatta la settimana. quello che potrebbe essere interessante è andare a vedere di settimana in settimana come vanno le cose. Ad esempio, una cosa interessante da fare, non ho né tempo né voglia, è vedere se al diminuire le persone in aula aumentano le persone che guardano i video. o no? Può darsi, è un'ipotesi. No, è tanto per capire che tipo di analisi fare. Allora, avere un dato che sia più piccolo o più corto di una settimana non serve un gran che. Poi invece, sempre pensando a quell'informazione lì, quando poi finirà il corso ovviamente cambia tutto, quindi non ha neanche senso avere un'osservazione che sia più lungo di un certo intervallo di tempo. Quindi, l'intervallo, sono esempi semplici per dire, l'intervallo di tempo a cui osserviamo un fenomeno dipende dal fenomeno che stiamo osservando. Non possiamo dire osserviamo tutto ogni giorno, ogni settimana, ogni mese. Dipende. Va studiato bene. Ovviamente. In funzione della periodicità o della durata del fenomeno stesso. Faccio un esempio antipatico, antipatico per la sua storia, ma a volte sono state lanciate presso il Politecnico, no? Perché poi sono cose che uno ha vissuto. Sono state lanciate delle iniziative anche in campo didattico e poi si sono visti, si sono misurati quanti studenti hanno aderito, eccetera, e dopo il secondo anno è stato chiuso perché si è detto ah, non ci sono abbastanza studenti. Allora, non ha senso se tu lanci qualcosa su un percorso di studi che è di cinque anni, valutarne l'efficacia dopo due anni, che non è neanche ancora finito il primo ciclo. A volte, non a volte, spesso vengono prese delle decisioni sulla base di indicatori che non hanno significato perché non sono stati presi, misurati nel contesto opportuno. Allora, questa è una delle difficoltà, trovare gli indicatori giusti, capire come devono essere misurati. Su questo è un po' il lavoro che faremo quando parleremo dei KPI calcolati del sistema informativo. La seconda metà è poi, una volta che ho deciso quali sono gli indicatori, riuscire ad andare a mettere le opportune sonde, le opportune misurazioni nel sistema informativo per poter tirare fuori i dati che mi servono. Poi, ovviamente, in ogni funzione aziendale ci sono delle famiglie di indicatori che sono in alcuni casi anche già predefiniti, standardizzati, ad esempio, sulla parte economica ci sono già tutta una serie di indicatori che voi conoscete meglio di me che ti riassumono anche solo i bilanci o i bilanci quadrimestrali. Anche lì, la parte finanziaria si valuta molto spesso a trimestri, no? Ho detto quadrimestrali, io ho sbagliato, sono i quarter, sono i quarti di anno, i trimestri. Non vai a fare un bilancio ogni settimana. Uno perché ti costa una quantità di tempo mettere insieme tutti i dati ed elaborarli che sarebbe, diciamo così, di nuovo controproduttivo. Ma altro perché comunque un intervallo di tempo troppo breve perché tu possa o rischieresti di vedere delle fluttuazioni che in realtà sono semplicemente variazioni statistiche, naturali. Tu devi osservare un fenomeno per un certo quantità di tempo per poter eliminare gli errori dovuti alle normali fluttuazioni statistiche di qualunque fenomeno. E quindi ci sono indicatori come il budget, l'ingresso, il personale, eccetera, eccetera, indicatori. Quindi in qualche modo stiamo pensando a un nuovo tipo di sistemi informativi, chiamiamo manageriali, dove mentre a livello operativo l'utilizzo è un utilizzo continuo, a livello manageriale è di solito un utilizzo periodico. Diciamo settimanale, mensile, trimestrale, dipende da cosa stiamo facendo. dipende dall'indicatore, poi quando progetteremo l'indicatore ricordiamoci di questo discorso un po' generale perché dovremmo chiedersi sempre a questo indicatore con che frequenza lo calcolo. E a livello operativo le informazioni che servono sono di solito informazioni semplici, il singolo dato, il singolo utente, il singolo viaggio, la singola pronotazione, il singolo team, il singolo voto, per agganciarti gli esempi che abbiamo fatto nel laboratorio o nelle situazioni e quasi sempre interessa il dato corrente al tempo attuale. Adesso quella persona è in un timono? Non mi interessa se lo era un giorno fa, tre giorni fa. È rarissimo che a livello operativo mi interessi andare a consultare la storia di un dato, i valori precedenti di una certa informazione. Mi interessa quali sono i valori di questa informazione adesso. Quest'ordine la bianca evaso o no? Se la bianca evaso sì, non mi interessa se l'ho evaso ieri o tre giorni fa. Perché mi dovrebbe interessare? Chiaramente semplificando, no? E quindi nel livello operativo si lavora con tanti dati semplici, tante informazioni rappresentate da dati relativamente semplici e quasi sempre nel tempo corrente, in tempo reale. a livello manageriale invece servono con fondamentale l'accesso alle serie storiche quindi avere i valori di un certo dato nel passato, i valori delle operazioni nel passato ma non andare a vedere tutti i singoli valori storici bensì aggregarli in qualche modo. Fare medie, fare somme, fare tendenze, fare grafici. perché altrimenti avremo una marea di dati che a occhio nessun umano riuscirebbe a cogliere. Quindi dobbiamo definire quali sono le aggregazioni opportune di questi dati. Queste sono elaborazioni che possono essere anche elaborazioni pesanti quando hai moli di dati. pesanti nel senso che magari possono comportare ore di calcolo anche per andare a accedere a tutti i dati confrontarli fare i trend applicare i modelli statistici di calcolo eccetera. Infatti tutto il mondo dei big data fa sta roba qua. Analizza basi di dati sempre più ampie per riuscire a cercare di cogliere della conoscenza che c'è lì dentro. e quindi ha delle tecniche che ti permettono di accedere a basi storiche sempre più ampie. Ma alla fine ti serve per riassumere in pochi numeri significativi l'andamento di una lunga serie storica o in molte lunghe serie storiche di vari tipi di indicatori. Il fatto che richieda del tempo di calcolo che a livello operativo non sarebbe pensabile. Cioè tu non puoi pensare che quando uno dice faccio un ordine a quando diciamo così la produzione o il magazzino riceve quell'ordine passino tre ore perché il sistema informativo deve calcolare. No. È istantaneo quello. Quindi l'efficienza è fondamentale. Qua è molto meno importante. Se quel calcolo lo faccio una volta alla settimana anche se si prende due ore di tempo lo faccio partire domenica sera io l'uno di mattina arrivo in ufficio e lo trovo il risultato. Non c'è questo grosso problema. Quindi sono proprio contesti lavorativi diversi ritmi diversi. Ok? A livello strategico quindi a livello superiore la situazione è ancora diversa perché in qualche modo a livello manageriale dei processi devo tenerli sotto monitoraggio sotto controllo e valutare come stanno procedendo. A livello strategico dovrei dovrei sempre sulla carta in teoria dove sempre tutto funziona bene ragionare se l'insieme di processi e di prodotti che sto gestendo è quello ottimale oppure va arricchito va modificato va se devono essere aperti nuovi mercati tutto questo tipo di scelte qua. Quindi dovrò ragionare su delle possibilità ipotetiche di cui non ho i dati. non è un processo che dovrebbe fare 8 in un certo indicatore in realtà fa 7 allora cerchiamo di migliorarlo ma ho tutti i dati che mi permettono di capire perché ha fatto 7 e non 8. Qui sto cercando di prevedere se io faccio una certa azione cosa faranno i concorrenti cosa fare il mercato cosa faranno i clienti se i miei fornitori mi stanno dietro e quindi farò delle analisi che sono sicuramente meno esatte su dei modelli in qualche modo predittivi che possono usare tutte le informazioni che ho a livello manageriale ma poi queste dovranno essere incastrate dei modelli che comprendono anche non solamente l'azienda ma anche l'ecosistema in cui l'azienda vive ritorniamo ai disegni che facevamo la prima settimana in cui c'era l'organizzazione che viveva in un contesto a livello strategico le azioni a livello manageriale le azioni del manager hanno impatto all'interno dell'azienda a livello strategico le azioni delle aziende hanno impatto o si relazionano col contesto in cui l'azienda vive quindi la risposta alle scelte che faccio non dipende solo da me ma dipende da come le mie azioni vengono colte raccolte osteggiate oppure accolte favorevolmente dal mio mercato dai miei competitor dai miei fornitori essenzialmente dai miei utenti e quindi a questo livello servono degli strumenti di simulazione di analisi di controllo generale molto più difficile siamo molto vicini alla magia essenzialmente quando si fanno queste cose perché è molto difficile avere dei modelli che magari facciano delle simulazioni delle predizioni affidabili perché fare una predizione è sempre facile dopodiché che il valore predetto significhi qualcosa abbia una certa affidabilità questo è molto più difficile come dice il motto che è sempre difficile fare previsioni soprattutto sul futuro e quindi guarda qui ci sono alcuni esempi di tipi di analisi che si possono fare qui sono spesso analisi fatte sui grandi numeri per poter fare un'analisi quantitativa hai bisogno pesantemente di filtrare il comportamento del singolo perché io magari sono un piccolo negozietto in un paese di provincia e decide di servirsi di una catena o di una marca di prodotti diversa come reagiscono i miei clienti ma magari i clienti abituali ne ho 50 il comportamento di 5 o 6 ha un impatto ma magari ha un impatto rilevante ma magari il comportamento di quei 5 o 6 dipende da altri fattori della simpatia l'antipatia per me per la marca o quello che volete quindi è molto difficile prevederlo in modo oggettivo a macchina mentre invece quando i numeri sono più elevati è un pochino più facile stimare il comportamento delle masse cosa molto brutta da dire però su cui ci sono molti che diciamo così cercano di lavorare e si fanno business model proprio su questa capacità di prevedere o capacità di analizzare il comportamento di grandi utenti e quindi in questi settori diciamo così in cui c'è la numerosità degli utenti molto ampia si possono fare certi tipi di studi sul comportamentale quali sono le preferenze degli utenti quali sono i comportamenti degli utenti in risposta a una certa azione questo lo si fa analizzando serie storiche analizzando le azioni che hai fatto tu nel passato che hanno fatto i tuoi concorrenti nel passato vedendo le risposte che ci sono state e poi facendo l'ipotesi che il comportamento degli utenti nell'immediato nel passato recente sia rappresentativo del comportamento degli utenti nell'immediato futuro a regole più o meno costanti perché poi magari ti cambiano le regole sto vedendo qua la prima riga se poi sulla telefonia ti cambiano le regole del roaming e quindi tante strategie non le puoi più farle le devi cambiare ma soprattutto tutte le analisi che si basavano su un certo meccanismo di price in precedente le puoi buttare via non ti servono più a niente perché gli utenti reagiranno in modo diverso perché le condizioni sono cambiate allora in questo caso non mi interessano più solamente come a livello manageriale i dati della produzione della mia azienda ma di solito vado a ragionare proprio su dati ampi di mercato in cui ovviamente devo in qualche modo infilare degli indicatori della mia azienda per capire come si comporteranno queste cose se devo dire la mia opinione personale il fatto che a questo livello si riescono a fare cose effettivamente sensate è abbastanza raro però magari alcune volte ci si azzecca quindi in questo insieme di necessità quindi sistemi informativi che lavorano sui dati prodotti da altri sistemi informativi creando delle visualizzazioni delle visioni delle analisi più approfondite in termini di profondità di conoscenza ma semplificate in termini di quantità di dati e trovate quindi abbiamo messo alcune sigle tante sigle di questo genere qua adesso non stiamo a scriverle o impararle perché poi ognuno ogni azienda arriva con un suo prodotto lo chiami in un certo modo cerca di posizionarsi in una certa nicchia quindi sono tutti prodotti che vanno al di là di quello che è il livello più basso che è quello operativo a volte vengono chiamati sistemi TPS Transaction Processing System quelli che lavorano a livello operativo dove l'unità base di elaborazione è la transazione la singola operazione la singola azione e io me la visualizzo col token che passa dall'inizio dall'ingresso all'uscita di una certa azione svolta da un certo utente e deve essere guidato per capire che cosa faccio al passo successivo e registrare questo dato ecco oltre a questi sistemi c'è tutta una famiglia di sistemi che ci permettono appunto di catturare e analizzare questo tipo di informazioni poi a volte queste sigle qua si intrecciano perché quando uno parla di Management Difference System molto probabilmente al suo interno contiene un decision support system qualcosa che ti permette di fare simulazioni what if oppure avere elencarti quali sono le alternative possibili altri invece parlano di DSS in termini di algoritmo ci sono vari algoritmi proposti per fare questa operazione qua quindi non ci sono definizioni univoche per queste sigle per questo non ci voglio perdere troppo tempo qui c'è una figura che abbiamo trovato che prova a riassumere questi livelli a livello operativo a livello della conoscenza a livello del management e a livello strategico qui fa vedere ad esempio che a livello strategico l'impatto temporale su cui si ragiona è pluriannale adesso qui c'è scritto 5 potrebbe essere scritto 3 dipende ovviamente dall'industria in cui lavorate si parla in modo pluriannale mentre a livello gestionale l'unità di tempo al massimo è l'anno di solito e qui ci sono all'interno di queste caselle c'è il nome degli strumenti informatici che possono essere utilizzati mentre sulla sinistra c'è il nome un nome possibile non fissiamoli perché questi non sono nomi ufficiali standardizzati quindi ognuno se prendeste la figura simile da un altro vendor probabilmente metterebbe dei nomi leggermente diversi per avvicinarli a quelli dei suoi prodotti quindi però la tipologia di elaborazione dell'informazione che è necessaria a questi vari livelli quindi qui abbiamo gli strumenti di progettazione quindi i CAD i CAD intelligenti tutta la parte di Office Automation una gestione documentale eccetera eccetera e sotto invece abbiamo la gestione dell'operatività più sopra abbiamo la gestione delle informazioni estratte e le decisioni quindi qualcosa che ci aiuti a prendere decisioni voi in termini di estrazione di indicatori voi in termini di simulazione di che cosa cambierebbe se modificassi il processo oppure se aggiungessi più risorse e cose di questo genere quindi questa è questa famiglia questo livello intermedio della conoscenza è quello che forse si presta meno a essere integrato con gli altri perché effettivamente lì dove c'è più la conoscenza tecnica allora c'è degli strumenti molto più specifici anche se in alcune in alcuni tipi di industria in realtà che adesso sto pensando all'industria aerospaziale o cose di questo genere la progettazione tecnica e la documentazione di processo di prodotto sono sempre collegati ci sono proprio degli strumenti CAD apposta in cui tu fai il disegno ma insieme stai descrivendo le operazioni per realizzarlo per fare una manutenzione e così via proprio per requisiti diciamo normativi di quei settori ma in molti altri casi il collegamento forte ci deve essere tra il livello operativo e il livello del management in qualche modo il livello del management che in qualche modo è responsabile di ciò che succede a livello operativo noi abbiamo visto l'azienda divisa in livelli ma si può anche vedere divisa in funzioni c'è la funzione vendite marketing la funzione produzione finanza contabilità risorse umane eccetera eccetera alcuni esempi e all'interno di ciascuna di queste funzioni ovviamente il tipo di transazioni che verranno svolte il tipo di operazioni che vengono fatte a livello operativo è diverso se a livello del manufacturing ho il problema di magazzino produzione e spedizione a livello di finanza avrò il problema di ordine fattura pagamento che ovviamente sono legati alla stessa cosa ma gli oggetti su cui lavoro sono diversi le logiche con cui funzioneranno i sistemi informativi partiamo di livello operativo perché è più semplice le logiche con cui funzioneranno i sistemi informativi sono diverse pur collegate speriamo che siano collegate non sempre lo so quindi ciascuna fettina di questa piramide racconta cose diverse parla linguaggi diversi parla di oggetti diversi di procedure diversi di processi diversi di dati informazione alla base che sono diverse e quindi avrà bisogno di sistemi informativi specifici sistema informativo che mi decise la produzione di magazzino eccetera non sarà per nulla quello che mi decise la contabilità dell'accounting e non sarà per nulla quello che mi decise le risorse umane ferie, stipendi assunzioni permessi gratifiche obiettivi tutto mondo delle risorse umane corsi di formazione quante cose ci sono lì dentro che nulla hanno a che vedere con gli ordini nel magazzino nulla no perché poi quelle risorse vanno a finire là certo sono collegate le cose ma poi nell'operatività quotidiana nel level operation no sono mondi diversi e quindi in qualche modo questa nostra organizzazione viene a trovarsi affettata in due direzioni diverse quella per livelli organizzativi e quella per funzioni aziendali questa ha preso il nome di piramide di Anthony non chiedetemi chi sia Anthony e ci dice a noi poveri che ci dobbiamo occupare di sistemi informativi che all'interno di ciascuna di queste caselle ci sono esigenze diverse ci sono esigenze cioè ciascuna di queste caselle serve a qualcosa ma ciascuna di queste caselle è diversa dalle altre in termini di tipo di analisi che abbiamo fatto il monitoraggio di processo di produzione che faccio a livello management della funzione manufacturing sarà molto diverso dal monitoraggio del cash flow ad esempio o della redditività che faccio sempre a livello di management ma nella funzione di accounting quindi da un lato ciascun livello ciascuna funzione aziendale hanno requisiti specifici richiedono probabilmente sistemi informativi che abbiano caratteristiche diverse e qui è bello perché ci lavoro per tutti ce ne sarà sempre perché queste aziende si diventano sempre più complicate quindi sarà sempre più bisogno di supporto dei sistemi informativi dall'altra diventa sempre più complicato avere una visione comune di cosa sta succedendo di cosa sto facendo che non sia parcializzata e anche avere una reale collaborazione tra questi sistemi informativi che rischiano di essere anche molto diversi tra di loro e quindi lavorare su tipi di dati quello che noi chiamavamo il modello concettuale anche molto diversi tra di loro soprattutto se questi sistemi vengono magari progettati in tempi diversi per cui quando ho progettato il primo che era probabilmente o questo qui del manufaccio a livello operativo o questo qui dell'accounting a livello operativo programma per far fatture quando ho acquistato o progettato il primo di questi sistemi non pensavo ancora di dover costruire degli altri sistemi sopra, intorno, a fianco e quindi poi magari volerli integrare tra di loro e quindi ho progettato un sistemino che era autosufficiente chiuso ma poi diventa difficile da integrare e da estendere altro problema se compro perché poi non tutti hanno la forza la volontà o anche la convenienza di costruirsi sistemi informativi da zero che coprono tutta questa piramide a un certo punto ci sono dei fornitori che mi danno dei pacchetti ok c'è un fornitorio che mi dia un pacchetto che copra tutto? no loro dicono di sì ma no perché alcuni settori o sto facendo dei prodotti talmente standard che domani sono già chiuso già fallito e allora mi va bene un sistema informativo standard che copra tutto oppure qualche cosa di specifico c'è nel mio settore aziendale nella mia tipologia di prodotti nella mia tipologia di processi per cui magari un sistema informativo mi copre bene certe parti e poi invece se ne serve un altro diverso per coprire altre parti li voglio costruire commissionare costruisco io come azienda li commissiono a qualcuno qualche mio partner oppure li compro già fatti tutte scelte ovviamente legittime ma in qualunque scelta faccia c'è poi il problema di fargli parlare questi signori quello che non è scontato parlano di dati diversi ragionano in tempi diversi però questa è la situazione è complessa quindi ragionare a livello dell'enterprise non significa solo mi risolvo il mio problemino che ho qua sotto ma risolvo in modo da abilitare tutta una serie di altre interazioni ai livelli successivi e nelle funzioni aziendali separate quasi per assurdo l'integrazione verticale è più facile perché prendo dei dati li estraggo una volta al mese e li analizzo una volta che riesco ad accedere ai dati tutto sommato me la cavo sono interazioni tra le funzioni orizzontali che sono un pochino più difficili perché lì c'è effettivamente l'operatività e allora fino a quando ci sono a livello operativo è più evidente la necessità di integrare i dati cioè io comincio a lavorare su un ordine nel momento in cui arriva l'ordine in contabilità quando l'ho finito passo le informazioni in modo da mettere la fattura e la bolla di accompagnamento subito allora questi collegamenti qua li vedo quando comincio a ragionare che collegamenti devono essere qua è molto più vaga la cosa molto meno pressante la necessità e quindi a volte non si fa per ragioni di complessità è legata a un beneficio che non viene immediatamente percepito qui ci sono alcuni esempi divisi per funzioni ad esempio la funzione di andare 6 sul marketing che cosa può fare? beh a livello operativo gestisce traccia gli ordini a livello della conoscenza conosce e modella i clienti e i mercati a livello del management definisce ad esempio i prezzi poi questa è una funzione come si dice sales market non sa cosa sta vendendo per definizione applica dei modelli indipendentemente da qual è l'oggetto o il prodotto che viene venduto si preoccupa di quello mentre invece a livello della produzione manufacturing production agli stessi quattro livelli ci sono operazioni diverse magari c'è una produzione manufatturiera ho bisogno di interfacciarmi con le macchine controllare la produzione a livello della conoscenza tutta la parte card di progettazione a livello del management ad esempio la pianificazione della produzione compatibilmente con gli ordini con le loro disposizioni eccetera tutto il rumore che si fa adesso industrie 4.0 e pippe associate ricade qua dentro e ci dice guarda che tu nella produzione potresti avere molti più dati disponibili al sistema informativo di quelli che non ti servono ai fini della produzione stessa cioè io ho delle macchine operatrici delle stazioni di lavoro delle catene di produzione che ovviamente gestiscono delle informazioni che mi dicono che cosa è stato fatto quando dove eccetera buon e quelli sono i dati che servono a livello operativo ma con le tecnologie che ci sono oggi è possibile aggiungere della sensoristica in più collegata in tempo reale col sistema informativo per andare a raccogliere quei dati ma anche molti altri dati e raccoglierli in tempo reale se io sto pensando a un'azienda pensiamo al Piemonte a molte aziende metallo-meccaniche alla fine l'operaio a fine turno segna su un foglio di carta o su un foglio excel magari dipende quanti pezzi ha prodotto e quanti ha scartato magari perché non erano venuti bene quindi sono dei dati riassuntivi inaffidabili perché magari sono raccolti a mano da qualcuno e non in tempo reale a fine turno magari da qui non riesco a risalire magari se i pezzi sono stati scartati perché dovrei andare ad analizzare il perché ma nel momento in cui l'operario produce il pezzo la macchina su cui l'ha prodotto lo sa che il pezzo è stato fatto se ci metto un paio di sensori questi sensori di collego via rete locale al sistema informativo questo dato è disponibile subito e magari non è solo disponibile il dato del contatore di pezzi sicuramente è disponibile il pezzo ma anche l'ora e quindi posso misurare tutti i tempi di produzione ma anche magari le misure che sono state fatte o la velocità di produzione o l'utensile che è stato montato e una serie di informazioni di questo genere queste tecnologie permettono di avere un monitoraggio del processo produttivo molto molto fine e questo può permettere due cose uno di capire meglio cosa succede quindi a livello manageriale ho molti più dati da analizzare per poter comprendere ma due permette magari un controllo di processo molto più fine mi viene in mente un esempio che mi ha raccontato un signore qualche tempo fa che stava lavorando nel campo agroalimentare e diceva che è riuscito a convincere dei produttori di birra artigianale a informatizzare la tannica in cui la birra fermentava loro dicevano sono anni che lo facciamo sappiamo che dobbiamo mettere a questa temperatura la birra fermenta e dopo 12 mesi la tiriamo fuori con la gradazione e invece loro sono andati con degli studi sul meccanismo di fermentazione a avere una temperatura invece variabile sulla base delle misurazioni che venivano fatte e alla fine in qualche modo andando tra virgolette a stravolgere o migliorare un processo che veniva fatto da tempo sono riusciti ad ottenere delle varietà di birra con una gradazione anche più alta quindi tra virgolette con un valore di mercato maggiore questo perché vai a applicare un ciclo di controllo in tempo reale allora una tannica tenuta a temperatura costante lo sappiamo fare da 100 anni il boiler di casa un sensore di temperatura che imposta una resistenza che scalda nei momenti opportuni in modo da mantenere una temperatura costante ma se tu e questo è un tipo di controllo semplice se tu passi da un controllo semplice analogico on off a un controllo informatizzato in cui hai dei modelli che ti dicono come controllare quel sistema riesci ad avere una qualità di prodotto anche diverso un tipo di prodotto diverso in alcuni casi qui è tutto da inventare ancora ciò che si vede molto in giro di chi parla indice quanti punto zero è raccogliere dati chi ti vende l'indice quanti punto zero tante volte ti vende o macchine operatrici nuove che hanno la presa di rete dietro oppure ti vende sensori nuovi da agganciare alla macchina operatrici e poi ti vende tutta l'infrastruttura e il software per analizzare questi dati grandi reti di monitoraggio poi cosa ce ne facciamo di tutti questi dati raccolti qui cominciamo un po' a scricchiolare nel senso che servono sicuramente a livello manageriale per avere una visione più dettagliata del processo però se c'è qualcosa che domanda il processo aspettate di avere i dati a fine mese qualcuno li guardi qualcuno li capisca e qualcuno agisca in modo da modificare il processo sono passati tre mesi se invece la vera promessa di questi sistemi è di poter intervenire in tempo reale sul processo andando non solo a misurarlo ma anche a modificarlo questo richiede chiaramente un nuovo modo di progettare la produzione che non lavori su parametri statici ma lavori su parametri diciamo dinamici o determinati di amicamente questo è il mondo su cui adesso ci sono molti investimenti ci sono molte persone che dicono di essere super esperti ci sono poche esperienze secondo me veramente di qualità probabilmente tra un anno o due quando andrete a lavorare magari ci saranno parole chiave diverse ma è un trend ancora ancora diciamo così molto in espansione e copre esiste perché copre i diversi livelli cioè tutti questi dati che vengono raccolti in più a livello operativo di solito non servono quindi giustifico questo investimento solo perché riesco con quei dati a produrre meglio a capire meglio come sto producendo e così via poi ci sono altri settori aziendali che sono molto più noiosi tutta quella parte finanziaria e ricontabilità dove anche lì ovviamente magari a qualcuno di voi piacciono per carità io sono oggi noioso dove anche qua ovviamente ci sono i vari livelli che vanno dal quotidiano al più lungo termine questi sono solo esempi dove si vede che queste varie fette della piramide di Anthony sono tutte uguali ma parlano lingue che tra di loro non si capiscono ok provate a fare parlare a un esperto di finanza con un esperto di produzione va bene se si mettono a raccontare le batelette sporche e a loro si capiscono perché altrimenti non hanno nessun termine comune nessun modo comune di ragionare però lavorano per la stessa azienda questo è un pochino lo scenario in questo scenario l'obiettivo che ci poniamo scusate vado all'inizio è di ragionare su non la costruzione di un sistema informativo di management perché questo implicherebbe tra l'altro la capacità di imparare come si fanno a manipolare grandi quantità di informazioni ma perlomeno capire quali sono dei modi per progettare questi indicatori di cui abbiamo parlato ok questi management information system in cui ci poniamo soprattutto a questo livello anche se qualche cosina può essere anche estrapolato a livello superiore noi faremo avremo in mente un modello di questo genere che è molto simile alla figura di prima solo un pochino più dettagliata perché stiamo entrando nel vivo del management dove hai qua sotto la parte operativa questa la parte operativa è per noi una scatola grigia non è una scatola nera in cui vedo cosa entro e vedo cosa esce è una scatola grigia un po' semitrasparente in cui vedo cosa entra e cosa esce ma posso anche andare a vedere alcuni aspetti al suo interno e questi aspetti al suo interno sono ciò che viene misurato queste informazioni che viene poi confrontato come dicevamo prima con gli obiettivi pianificati e sulla base di questo confronto tra ciò che mi ha dato come obiettivo e ciò che ho misurato nel processo posso scusate il disegno che è un po' intracciato fare due operazioni una è identificare le azioni correttive l'altra è ridefinire gli obiettivi quando mi accorgo che sono o li ho già raggiunti e quindi ne voglio fare dei migliorativi oppure non li ho raggiunti e mi sto rendendo conto che non sono raggiungibili quindi è meglio impostarsi su obiettivi più realistici queste azioni correttive facili scrivere sulla carta quali devono essere la cosa difficile è poi ovviamente traslarlo all'interno del processo perché significa gestire un cambiamento decidere impostare e gestire un cambiamento azioni correttive sul processo di solito non sono azioni punitive sulle persone ma il processo in qualche modo non sta lavorando come dovrebbe e in qualche modo va modificato qui ci sono dei loop continui una continua retroazione di un sistema che si autocontrolla e che poi uno, due, tre questi tre rettangoli sono il risultato di azioni decisionali di chi è responsabile di queste attività non si fanno da sole non seguono semplicemente un canone predefinito ma vanno analizzate e ragionate di caso in caso tutto esiste se e quando abbiamo la possibilità di misurare le qualità delle caratteristiche dei nostri prodotti o dei processi che li producono quelli che prima accennando chiamavo indicatori devo prendere delle misure devo prendere dei numeri dei valori quali che caratteristiche devono avere che cose mi devono rappresentare se non ho questa possibilità tutto il resto lo posso buttare a mare perché sto facendo pianificazione come dicono i controllisti in catena aperta è un po' come mettersi la benda agli occhi e dire adesso vado a Milano ma la strada ha la sola perfezione do dei controlli dei comandi ma se non so come reagisce il mio sistema a questi comandi non so dove sono non so dove sto andando sicuramente non vado lontano quindi qualunque sistema di controllo non può mai essere più preciso rispetto a delle informazioni sulle quali si basa quindi è chiave riuscire a definire quali sono queste informazioni e questo però poiché parliamo non di informazioni prese su un'attrezzatura una macchina ma parliamo di informazioni prese su un processo aziendale che coinvolge macchine coinvolge sistemi informativi ma coinvolge anche persone c'è un aspetto diciamo così umano barra sociale che non si può trascurare questa è una frase ecco le belle frasette d'effetto che si può leggere in senso positivo o in senso negativo cioè ciò che viene misurato viene fatto oppure ciò che viene fatto viene misurato giratela come volete alcune volte si dice se non viene misurato non esiste se non hai la prova se non hai la documentazione se non hai dei dati è come se non esistesse questo vuol dire che nel momento in cui vado a misurare un qualunque elemento allora ho una la certezza non c'è mai la certezza matematica ma la certezza che effettivamente quel risultato verrà raggiunto se io da domani vi dicessi guardate che segno l'orario in cui entrate in aula e l'orario in cui uscite ok? e poi magari che ne so ne tengo conto all'esame e sono sicuro che dalla volta dopo ci saranno tutti in aula da dieci minuti prima no? perché ho preso una misura e il semplice fatto di sapere che la misura viene presa poi magari non faccio niente però il semplice fatto di sapere che la misura viene presa cambia il comportamento cambia l'importanza percepita di una certa azione e quindi quell'azione viene eseguita con più cura con maggior cura con maggior attenzione indipendentemente dal fatto che poi uno prenda i provvedimenti o no semplicemente dal fatto di misurare quindi o sapere che uno viene misurato come tutti quelli che mettono le telecamere finte perché costano meno ma se tu vedi una cosa che potrebbe essere una telecamera già ti comporti in modo diverso tanti piccoli indizi in realtà c'è il rovescio della medaglia quindi se misuro se identifico che la parte positiva è se identifico che un aspetto del mio processo è importante e decido di misurarlo di trovare un modo per misurarlo allora il processo stesso si adatterà per il fatto stesso che decido di misurarlo a farlo funzionare meglio e quindi è un risultato positivo c'è però risultato negativo che ciò che non viene misurato di solito sbarella se io pongo troppa attenzione su alcuni indicatori su alcune misure il sistema si adeguerà in modo da massimizzare quelle misure e ignorare le altre e ignorare gli altri fattori cioè da quando vi hanno detto che per entrare alla magistrale devi avere la media delle 24 o quant'è adesso 24 giusto e allora quella misura lì la media dell'esame triennale è diventata l'indicatore più importante di tutto e quindi a quello sicuramente si fa attenzione e allora cosa si è osservato che il numero di persone che si laureano con più di 24 è aumentato ma l'ha perché di tanta importanza quella misura è ovvio che poi le persone magari sacrificano il tempo di laurea sacrificano altre attività pur di raggiungere quell'obiettivo scelgono corsi più facili sai che i prof rimani calarga i modi si trovano se hai un obiettivo di raggiungere quello se hai una cosa che sai che viene misurata quindi in questi casi qua è molto difficile distinguere la causa dall'effetto però magari appunto altri aspetti vengono sacrificati se tu non puoi lavorare al 100% per tutti i possibili indicatori per tutte le possibili misure dovendo fare qualcosa ti orienti in ciò che viene misurato tutto per dire le vicissitudini che sta passando l'università in questi anni in cui c'è un'attenzione smodata per il numero di pubblicazioni che viene fatto in particolare solo per pubblicazioni su riviste internazionali se non sto qua a raccontarvi la parte di ricerca del nostro lavoro in che cosa consiste se non ci metterai troppo cosa ha causato ha causato l'aumento della spazzatura gente che pubblica qualunque schifezza pur che sia perché tanto uno in più è sempre meno che uno in meno e il fatto che molte conferenze stanno chiudendo non hanno più persone che vanno perché se tu scrivi un articolo vuoi andare a presentare una conferenza ti costa perché comunque devi viaggiare stare via più giorni eccetera eccetera e poi quello tra virgolette non ti vale niente perché il ministero dice che le pubblicazioni su conferenze non valgono niente mentre invece le pubbliche su rivista sì allora sono aumentate le riviste che pubblichano spazzatura e stanno chiudendo magari conferenze che erano anche delle occasioni per potersi confrontare e discutere tutto perché è stata messa una misura in un certo punto e il sistema si adegua quindi è molto è molto pericoloso è molto forte il potere di chi decide cosa viene misurato e tutti gli indicatori di cui parlavamo prima gli indicatori di un processo che ci dicono quanto il processo sta andando bene sono tutte misurazioni misurazioni che in quanto tali hanno la facoltà di modificare il processo stesso misurato adesso non sto a tirare in ballo la fisica quantistica in cui la misura modifica però il fenomeno è lo stesso il fatto stesso di decidere di misurare un fenomeno o un processo significa che quel processo non si svolge più come si stava svolgendo prima quindi attenzione misurare è un'azione invasiva quindi dobbiamo essere particolarmente attenti ad avere un numero limitato di indicatori di alta qualità altrimenti avrò un'azienda che è focalizzata nel massimizzare le misure e non produrre prodotti o servizi che deve produrre come definire gli indicatori è un po' la domanda su cui molti hanno lavorato e infatti trovate libri e libri e cataste e cataste di libri che parlano di questi problemi qua e propongono modelli diversi che possono adattarsi diciamo così a situazioni diverse quello su cui ci concentreremo noi è soprattutto la definizione dei KPI Key Process Indicators indicatori chiave di un processo perché poi noi abbiamo soprattutto dato l'impostazione di processo diciamo così dall'attivity diagram eccetera e quindi abbiamo decomposto l'azienda soprattutto in una serie di processi noi immaginiamo questi processi a livello operativo e vogliamo monitorarli attraverso un insieme limitato di indicatori che potranno essere utili a livello manageriale quindi la domanda che ci porremo è come definire questi indicatori in modo che siano significativi sensati perché non basta raccogliere i dati dal livello operativo e poi le faccio la media e poi faccio la somma ha significato quella somma ha significato quella media ad esempio vabbè si arrivo dopo ad esempio ma magari non siete scioccati perché lo sapete già il fatto di fare la media dei voti degli esami non ha nessun significato matematico è come dividere per zero o fare la radice di meno uno la radice di meno uno non si può fare è come dividere per zero matematicamente non ha senso è come chiedervi di che colore è il numero otto non vuol dire niente perché i voti degli esami non sono dei numeri o meglio sono dei numeri che indicano dei livelli ma non delle quantità adesso la prossima volta poi cominceremo a affrontare questo tema se voi quando voi fate facciamo un esempio più facile da capire quando voi fate i questionari di fine corso e mettete il docente è stato bravo non ho spiegato bene non ho spiegato bene tutte quelle domandine lì che una volta erano 40 adesso ne ha mette 4 solo più quindi quando io vedo i risultati e in più dei risultati io vedo la media allora prendono quei punti lì da 1 a 5 fanno la media e dicono la tua media quest'anno è stata 3,78 e questo dovrebbe aiutarmi a fare didattica meglio a sapere ma quell'operazione di media anche lì non ha senso perché 1, 2, 3 4, 5 non sono numeri interi perché chi ha dato 2 non ha espresso un giudizio che è il doppio di chi ha dato 1 e è la metà di chi ha dato 4 se tu fai la media stai presupponendo che questi numeri tra di loro abbiano degli intervalli costanti e il 2 si ha la metà del 4 perché se tu fai somma diviso n li stai trattando come numeri interi che hanno tutte le proprietà aritmetiche quelli non sono numeri anzi nei questionarii fatti bene c'è scritto poco molto poco pochissimo molto moltissimo qualcosa di questo genere sono delle qualità delle fasce di qualità che non si possono sommare cosa fa abbastanza molto con pochissimo mediato non si può fare la media è idem gli esami cioè chi prende 30 e chi prende 24 non sto dicendo che chi prende 30 sa esattamente il 33% non so quanto venga la percentuale in più di chi ha preso 24 io non sarei in grado di fare una valutazione di questo genere io sono in grado di dire che secondo la mia valutazione che sicuramente ha degli elementi di soggettività di errore quindi soggetta comunque come qualunque misura a degli errori statistici probabilmente secondo questa misurazione sa meglio certe cose quelle misurate da quell'esame in quel giorno rispetto a chi ha preso 24 quindi ho una valutazione di ordine ma non di quantità questo sa meglio dell'altro o ha fatto quel compito meglio dell'altro io non so mai se uno sa le cose io so solo cosa avete scritto nei compiti e posso dire che questo ha fatto il compito meglio dell'altro ma di quanto non lo so dire non si può dire beh se invece mi chiede che temperatura c'è o che ora è allora sì ti posso dire che 7-5 sono 5 minuti dopo alle 7-10 quindi i numeri non sono tutti uguali per il fatto che ho misurato una cosa e ho ottenuto un numero non vuol dire che con quel numero ci posso fare ciò che voglio quindi per definire degli indicatori che abbiano un senso la prossima volta ci dovremo puppare un pochino di teorie della misura che ci faccia capire i vari tipi di misurazioni che vengono fatti e quindi le operazioni statistiche che ha senso fare su ciascuna di queste operazioni chiudiamo con questa che è la versione pessimista del motto di prima che dice che più è forte la pressione su un indicatore e più il sistema farà di tutto compreso anche cose illegittime per riuscire a migliorare quell'indicatore quindi gestire sì ma facciamo sempre attenzione agli effetti collaterali ci vediamo martedì prossimo buon ponte grazie grazie